Ciao a tutti. Oggi parleremo dei migliori e i più potenti impastatrici planetarie in circolazione su Amazon, ma prima di iniziare ti ricordo che tutti i link delle impastatrici planetarie che vedremo si trovano in descrizione o nel primo commento, quindi puoi facilmente trovare i modelli che ti sono piaciuti di più. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Abbiamo anche un canale Telegram dedicato alle offerte. Sconti ogni giorno. Link in descrizione. Iniziamo. Impastatore professionale G3 Ferrari G20056 è in grado di garantire prestazioni professionali, rivelandosi allo stesso tempo di facile utilizzo anche per utenti meno esperti, grazie all'ottima dotazione di accessori. Equipaggiato con una capiente ciotola da 5,2 litri in acciaio inox alimentare e 8 velocità di lavorazione, è ideale per miscelare, impastare e montare a neve anche grandi quantità di composto, offrendo in ogni occasione la massima comodità di utilizzo. Piala la frusta in alluminio mescola rapidamente e senza fatica i composti come gli impasti per dolci e biscotti. Il gancio impastatore assicura invece un'ottima lievitazione della pasta, risultando perfetto per impasti di pane, pizza e gnocco. Oltre ad impastare efficacemente la pasta all'uovo. Il planetario in acciaio inox per la lavorazione di miscele più delicate. Tutti gli accessori si collegano comodamente all'impastatore senza sforzo e in modo semplice e veloce. Impastatrice planetaria Bosch MUM5, con potenza motore da 900 Watt e ha una varietà di accessori per impastare, mescolare e montare con risultati rapidi ed efficaci. Con 7 velocità e la funzione Pulse permettono preparazioni semplici e veloci. Mentre la posizione di parcheggio automatica degli accessori rende facile l'aggiunta degli ingredienti nella ciotola. Una grande ciotola da 3,9 litri perfetta per ogni impasto. Movimento planetario 3D. Risultati veloci e perfetti grazie al movimento planetario migliorato che mescola muovendosi su tre dimensioni contemporaneamente. Easy Arm Lift. Il braccio multifunzione si muove facilmente premendo un pulsante. Posizione di parcheggio automatico per una più facile aggiunta degli ingredienti nella ciotola. Easy Storage. Vano avvolgicavo per riporre in modo facile e veloce il cavo. Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l'uso. Elevata sicurezza garantita dalla protezione contro il surriscaldamento. Sistema di bloccaggio della ciotola Safety Lock. Gancio per impasti duri. Frusta per impasti morbidi e frusta in acciaio inox per montare tutti gli ingredienti. Con il coperchio trasparente. E con DVD di ricette incluso. Impastatrice planetaria G3 Ferrari realizzata con un contenitore per gli impasti di 10 litri che consente la lavorazione di grandi quantità di impasto. E ne permette la lievitazione o la lavorazione senza l'utilizzo di ulteriori ciotole e strumenti. Per ridurre sprechi in tempo, acqua e fatica. Con una potenza 1500 W. Dispone di 6 velocità che abbinate al movimento planetario delle fruste consentono una copertura totale della ciotola ed una miscelazione morbida e senza grumi. Perfetta per la preparazione degli impasti di pizza, pane, dolci e biscotti. L'aggiunta degli ingredienti durante la preparazione di una ricetta è comoda e veloce grazie all'ampio angolo di inclinazione della testa. I piedini antiscivolo garantiscono sempre la massima sicurezza e stabilità anche a velocità sostenute o durante la miscelazione degli impasti più duri. Accessorio opzionale G20114, tritacarne. Questo tritacarne è un accessorio opzionale che presenta una struttura in alluminio e tre dischi di taglio in acciaio inox di diverse dimensioni per tutte le necessità e i dischi inutilizzati possono essere riposti nel comodo premi alimenti. Accessorio opzionale G20115, traposta. Questo terapista è un accessorio opzionale per il G20120 mentre è incluso nel modello G20113. Presenta una struttura in acciaio inox, rulli di 14 cm in alluminio e 9. Possibili regolazioni di spessore per l'impasto e altri accessori come G20117, spaghetti, e G20116, tagliatelle e fettuccine. Impastatrice planetaria Kenwood KHC29.H0WH professionale. Sorprendere i tuoi amici non è mai stato così semplice. Assicura risultati ottimali in cucina, con una potenza da 1000 Watt per un'ottima azione di miscelazione ed impasto. Potente. Tre diversi attacchi per gli accessori per tre velocità di lavorazione. Alta, media e planetaria. Funzione Pulse. Sistema di sicurezza interlock. Blocca il funzionamento se le attrezzature non sono inserite correttamente. Capiente. Dotato di una ciotola. Capiente in acciaio inox con capacità 4.3 litri. Ed una paraschizzi. Forma della ciotola per una migliore fruibilità. Tre ganci di miscelazione. Frusta K per ingredienti secchi. Gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane. Pizza e focacce. Frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi. In dotazione. Frullatore in plastica da 1.5 litri. Food processor con lame in acciaio inossidabile. Tre lame a disco. Da 1.4 litri e spremiagrumi. La migliore e la più potente è Kenwood KWL 6300S. Super professionale. Sia sperimentando o creando un piatto tramandato da generazioni. Chef Elite permette di creare pietanze di altissimo livello. Struttura in metallo pressofuso. Finitura silver. Ottimo. Impastatrice planetaria con una potenza di 1400 Watt e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7 litri per un'ottima azione di miscelazione ed impasto. Tre ganci di miscelazione. Frusta K per ingredienti secchi. Gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane. Pizza e focacce. Frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi. Movimento planetario. Lo movimento permette di miscelare. Amalgamare ed impastare gli ingredienti per risultati da VeriChef. Personalizzabile. Oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente. Per preparare ricette diverse con una sola macchina. Per oggi è tutto. E tu quale comprerai faccelo sapere con un commento. Ti ricordo trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Spero che questo video ti sia piaciuto. E se così dovesse essere non esitare a mettere mi piace. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.